Sta facendo discutere la decisione del Governo di far tornare gli esami di Stato come prima della pandemia. Agli studenti infatti non piace il nuovo formato della maturità così come annunciato dal Ministro Bianchi e che prevede a partire dal 22 giugno due scritti, tema e prova di indirizzo più orale, tutto in presenza. È scattata quindi una mattinata di mobilitazione a livello nazionale per convincere gli organi preposti a fare marcia indietro, iniziativa alla quale hanno aderito decine di studenti delle scuole fanesi. Dopo mesi di affermazioni vaghe, ha spiegato il rappresentante del liceo scientifico Torelli Marco Gliaschera, ci siamo ritrovati in modo totalmente inaspettato, uno stravolgimento dell'esame, come se due anni, quasi tre, di didattica a distanza, fossero totalmente scomparsi, totalmente ignorati. Noi rappresentanti dell'Istituto di Fano ci siamo riuniti per seguire lo sciopero che è stato indetto nelle varie città d'Italia, in particolare nelle varie città delle Marche. Questo sciopero è nato non per attaccare direttamente la seconda prova, ma per attaccare tutto ciò che è stato fatto prima, quindi per manifestare per tutto il periodo di DAD, tutti i periodi di incertezza e di difficoltà che abbiamo subito e diciamo che la seconda prova è stata effettivamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Voi avete subito la DAD per circa tre anni, per il triennio? Per tutto il triennio, infatti noi quinte di quest'anno siamo stati le classi che hanno subito più la DAD, abbiamo avuto tutto il primo triennio che è stato un periodo più difficile perché era una cosa totalmente nuova, la scuola per via computer era molto difficile. Poi siamo stati finito l'anno scolastico, siamo stati subito rimandati a scuola, diciamo un po' 50%, un po' 70%, quindi anche lì non si può parlare di un ritorno alla normalità. Noi in particolare classe mia è stata una classe campione che ha vissuto un anno, un mese scusa, in presenza, ma l'ultimo mese, ma parlando del complesso, di tutto il Torelli, che è la mia scuola e in particolare di tutti gli altri poli di Fano, non c'è mai stata una vera classe che è sempre stata in presenza e quindi non si può mai parlare di normalità. Con questo esame si parla tanto di noi, ha poi aggiunto Marco, ma gli alunni non sono mai stati davvero interpellati. L'esame, quasi come l'originale, è la prova di una mancanza di consapevolezza di ciò che succede nelle scuole, di come gli alunni si sentono. Dalla DADA, raccontato, sono drasticamente aumentati problemi legati ad ansia e panico. Invece si parla solo di rimandarci in classe con modalità sempre diverse. Abbiamo vissuto in balia dell'incertezza, ha dichiarato, chiusi nelle nostre stanze davanti a uno schermo, privi delle normali esercitazioni e del normale confronto. Preferite ad esempio un maxi orale? Noi preferiamo un maxi orale, sì, perché riteniamo che questa didattica a distanza ha punito noi come ha punito tutti gli altri e quindi se all'interno della scuola non c'è nulla di normale, non è possibile davvero ritornare in una normalità e quindi come sono stati finalizzati i ragazzi degli anni precedenti, lo siamo stati anche noi e siamo sulla stessa barca. In quanti hanno aderito oggi lo sciopero? Allora, lo sciopero hanno aderito in particolare tutte le classi quinte, alla maggior parte delle classi quinte, ad esercito qualche scuola, al Torelli di Pano, al Nolfi Appolloni, il Battisti e allo sciopero, ovvero non andare a scuola oggi. Poi abbiamo parlato anche di una manifestazione che si si congerà più avanti, il 10 di febbraio, dove abbiamo stimato all'incirca 300-350 persone. E scenderete in piazza? Sì, scenderemo in piazza il 20 settembre, abbiamo già detto il 10 di febbraio e in particolare anche oggi sì c'è lo sciopero, molti sono stati a casa, però alcuni hanno deciso di presentarsi davanti alle scuole per comunque farsi sentire, farsi vedere e non rendere comunque vano questa assenza da scuola e dare comunque un segno e un significato.